Sono Agnese De Rossi, responsabile marketing di Lago Group S.p.A. Abbiamo deciso di salire in corsa in questo Giro d'Italia 2021 con le merende di Gastone, una linea di prodotti per famiglie, composto da ciambelline che distribuiremo in sampling lungo tutto il percorso insieme a crostatine, pambrioche al latte e la colosa al cacao. Sono prodotti ideali per tutta la famiglia e soprattutto sono prodotti ideali ad essere consumati all'aperto e anche per un utilizzo per persone sportive che amano andare in bicicletta. Faremo con questa linea di prodotti sampling appunto lungo il percorso, saremo presenti nelle aree hospitality del Giro e poi abbiamo tutta una linea di pack dedicati in special edition Giro che si può trovare nei punti di vendita della grande distribuzione. Giro che si può trovare nei punti di vendita della grande distribuzione.